E' finalmente arrivato ragazzi il nuovo Bryton Rider 860 Io ancora non l'ho visto ma oggi lo apriremo insieme Vi dirò le mie prime impressioni, quanto costa e cosa ne penso Quindi cominciamo subito Questa ragazzi è la sua confezione originale Qui c'è scritto che ha più di 85 funzioni Display da 2-8 pollici, qui potete leggerle tutte Questa è la versione 860E Significa che è quella che al suo interno contiene solo la staffa, lo strumento e i vari attacchi Mentre la 860T contiene anche sensori di cadenza, velocità e fascia cardio Qui ci ricordano che il software va aggiornato Noi intanto lo apriamo Eccolo qua Eccolo qua Allora, a primo impatto devo dire che me lo aspettavo più piccolino Invece è veramente di dimensioni importanti Ricorda un po' un Garmin 1030, forse un pochino più piccolo ma direi abbastanza grande Quello che salta subito all'occhio è che ha delle belle cornici sia laterali che sopra e sotto Quindi il display è grande Ma si poteva fare qualcosa di meglio Ci sono due pulsanti qua sotto Un pulsante di lato E da quest'altro lato niente Proviamo ad accenderlo Sì, parte ok Intanto vi faccio vedere cosa c'è nella confezione Cavetto per la ricarica Attacco tondo classico da manubrio E staff in alluminio Sempre da manubrio Ma per vederlo più avanti Cavetto di sicurezza Guida E brucolina Perfetto Avvio di Android La prima volta che su un Bryton leggo questa scritta Comunque qui ci fa scegliere la lingua È touchscreen Quindi possiamo fare direttamente così Kilogrammi, chilometri Mi chiede di scaricare per forza l'applicazione Perfetto Quindi per accenderlo bisogna scaricare l'applicazione Buono a sapersi No, passo indietro Sono riuscito ad accenderlo Diciamo a farlo funzionare anche senza configurarlo Quindi questa È la schermata home Ovvero la schermata che troviamo appena la accendiamo Da qui possiamo andare appunto nel nostro profilo Dove impostare tutti i nostri dati Impostazioni ovviamente Dove configurare al meglio ogni aspetto del GPS E ciclismo In cui troviamo la schermata che vedremo durante la nostra pedalata Ovviamente queste pagine sono tutte configurabili Le informazioni che possiamo leggere Adesso questa schermata è bianca perché non prende il segnale GPS Ma vi ricordo che questo è anche cartografico Perfetto Ci vuole un attimo di pratica Comunque a primo acchitto Non è male il display Qui c'è la tendina delle notifiche Come se fosse un cellulare In cui possiamo aumentare o abbassare la luminosità Attivare le notifiche GPS Impostare le pagine dati Spegnere e anche Tornare alla home Quindi Questo ragazzi Come primo contatto direi che può abbassare Sicuramente avrò tempo anche di Configurarlo meglio E usarlo E quindi raccontarvi qualcosina in più Ne voglio anche comunque nel frattempo Confrontarlo con un Garmin 530 Questo perché i due GPS hanno presso a poco lo stesso prezzo Il 530 è più piccolino Anche se di display non c'è tantissima differenza Il 530 è sicuramente anche un pochino più leggero Per il resto Come display la definizione sembra presso a poco La stessa Sono proprio curioso di vedere se Questo Brighton Potrà veramente impensierire il Garmin Come ad esempio il 530 O se rimarrà Un prodotto Un pochino Diciamo difficile da vendere Perché I Brighton sono ottimi GPS Sulla fascia bassa si vendono benissimo Ma sulla fasciata Scontrandosi poi con Garmin La cosa rimane un pochino più difficile Comunque Vi terrò aggiornati Per oggi è tutto Con questo nuovo Rider 860 Quindi Vi saluto E vi do appuntamento Ad un prossimo video Ciao